La mamma di Ariadna Romero arriva da Cuba Carramba, che sorpresa ma è domenica live, la mamma di Ariadna Romero arriva da Cuba Ariadna Romero, la sensualissima modella, e Pierpaolo Petrelli, l'ex velino di Striscia la notizia, sono diventati genitori lo scorso luglio A domenica live, Barbara D'Urso li presenta come primi ospiti di puntata per il segmento Gossip e i due presentano proprio il piccolo Leonardo per la prima volta in televisione. Il piccolo Leonardo, primo figlio della coppia Dopo aver mostrato una serie di video privati di coppia, dove i due si mostrano all'opera come genitori, si rientra in studio per sapere della loro giornata insieme. È innamorato di te, è un buon gustaio, tutto suo padre Leonardo si diverte tra le braccia di Pierpaolo, così l'ex velino scherza con Barbara D'Urso. Ariadna e Pierpaolo litigano spesso Barbara D'Urso si lascia confessare da Ariadna e Pierpaolo che i due litigano spesso. Litighiamo spesso, meglio litigare lontano tra le pentole. A tratti è pericoloso, ma l'amore non è bello se non è litigarello. La sorpresa, la mamma è in studio. Ariadna Romero finisce in lacrime quando Barbara D'Urso le manda in onda un video messaggio di sua madre, bloccata a Cuba. Io spero di poterle far vedere mio figlio nei prossimi tre mesi. Quando Barbara D'Urso le annuncia che però le hanno fatto una sorpresa, comprando un biglietto aereo di andata e ritorno per la madre, Ariadna comincia a piangere ancora più forte. Entra in studio la madre, in un momento che ricorda molto Carramba che sorpresa. Ciao!